Il Comune di Carbonia ha pubblicato l'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento del centro abitato. La scadenza delle domande è fissata il 5 dicembre 2022 alle ore 13. È prevista la limitazione del pagamento alla sola fascia oraria della mattina, ovvero dalle 8.30 alle 13. Nei parcometri sarà possibile effettuare il pagamento anche con il POS e con app tramite smartphone per estendere l'eventuale periodo di sosta da remoto. Sarà inoltre contemplata la gratuità di 15 minuti come sosta di cortesia per gli addempimenti e gli acquisti più celeri. Nelle nostre intenzioni e nell'ottica di un piano complessivo dei parcheggi nel centro, ha spiegato l'assessore delle attività produttive Michele Stivaletta, ci sarà la realizzazione degli spazi a disco in un tratto di Via Gransch e in Piazza Ciusa, in particolare al centro della Piazza del Mercato, con sosta a tempo per favorire il ricambio gratuito negli stalli. Inoltre ha aggiunto l'assessore Michele Stivaletta, nel piano complessivo dei parcheggi, così come valutato con gli uffici, è inserito anche il parcheggio multipiano di Via Verona, il cui bando è scaduto ieri, in modo da fornire ulteriori spazi di sosta gratuita, strategici e funzionali a tutte le attività commerciali del centro.